Oggi inaugurazione qui su Viale Regina Margherita del Park Ride, una struttura che proietterà Crotone tra le 20 città italiane che hanno una mobilità sostenibile. Sì, stiamo consegnando oggi due bellissime attività riteniamo, fanno parte del programma PISU, un investimento di circa 800 mila euro, quindi non solo il parco giochi che potranno fuire i cittadini e i bambini, diciamo, macrotonesi da subito, ma ci sarà sotto il Park Ride un polmone verde dove ci sono tanti alberi, fiori, pulizia. E noi invitiamo proprio i nostri cittadini a venirci incontro perché da sola l'amministrazione non può farci, quindi invitiamo a un maggiore senso civico, a difendere maggiormente la nostra città, è un investimento serio, è un investimento che proietta la nostra città anche sotto l'aspetto della mobilità sostenibile a essere una delle prime 20 città in Italia ad avere biciclette elettriche, macchine elettriche. Noi pensiamo che verso giugno saremo nelle condizioni di inaugurare anche il chiosco che verrà attrezzato esclusivamente per la sostenibilità.